Ci sta in giro una persona che è pronta a fare una strage. Per poi sventare un atto terroristico evadiamo? Sì. Cioè, no. Un condotto del diametro di un metro e mezzo porta la banda larga dentro le Bibbia. Scapperemo da lì. Dunque noi scapperemmo via Internet. Ora possiamo cominciare. Che fatica, oi. Ui, come mai qua? Che avete fatto? Prode, banca rotta fraudolenta. Occultamento di cadaveri. Occultamento di cadaveri? Però non l'abbiamo occultato troppo bene, sto cadaveri. Se state qua... Keep turning up the heat, keep turning up I keep turning up the heat, keep turning up